La Sicilia occidentale è la parte più ventosa della nostra terra, della nostra Trinacria. Siamo riusciti a portare un insieme di cinque regate in posti ventosi e ancora più belli. Si inizia a Salina, con una regata che partirà da Palermo e arriverà a Salina. La farà parte del campionato italiano offshore. Quindi subito dopo le barche resteranno là per l'Eolens and in Week. Oramai è un cult perché è da tre anni che resista sempre il tutto esaurito con due mesi d'anticipo rispetto alla data d'inizio. Quindi tutti via a Marsala, per la Marsala Selin Week, dove ci saranno i più forti velissi del mondo per la categoria Platu 25, più una grossa regata di contorno d'altura che porterà a riempire completamente il mollo flore della cittadina marsalese. La regata di Marsala è inserita nell'anno del vino 2013, in cui Marsala è la capitale per quest'anno. Insieme a questo è potuto fare, oltre che mettere insieme i festeggiamenti caribaldi, i caribaldi sbarcò l'11 maggio a Marsala, l'anno del vino di Marsala e la Marsala Selin Week. Sarà un grande spettacolo a terra e un grande spettacolo a mare. Finito a Marsala, il clou tecnico dell'amministrazione sarà a San Vito per il campionato del Mediterraneo, che è una prova europea prima del campionato mondiale e si farà nell'Adriatico. San Vito rappresenta un punto importante di passaggio per tutta la flotta del Tirreno che dovrà poi spostarsi in Adriatico per il campionato del mondo. Quindi un ottimo momento per testare equipaggi e barche prima dell'evento irritato. Si conclude tutta a Favignana con la regata della Farfalla, è il nome dell'isola di Favignana dovuta alla sua forma, per tornare di nuovo con le barche più piccole, in quanto il porto consente una entrata limitata di barche, e avere di nuovo i fortissimi della classe Plato 25 a Marsala ai primi di giugno.